Buongiorno, sono il dottor Mark Debrinkat. Ho passato oltre 25 anni nella mia carriera aiutando persone con trauma cerebrale e spinale. Attraverso l'uso del feedback celebrale, del mappaggio cerebrale, della chiropratica, della nutrizione e altre modalità, siamo riusciti ad aiutare le persone a riconquistare la propria libertà e la propria vita. Negli ultimi anni ho lavorato a fondo con i prodotti VoxLife per aiutare i miei pazienti a raggiungere l'omeostasi neurologica. Questi prodotti sono stati eccellenti. Abbiamo osservato che le persone rispondono molto più rapidamente alle terapie e alle modalità che abbiamo precedentemente utilizzato. È un'esperienza straordinaria. Questi prodotti ci hanno aiutato a raggiungere i progressi in modo molto più veloce. Di recente ho iniziato a investigare un nuovo prodotto di VoxLife chiamato Neurovox per valutarne l'impatto nell'aiutare a raggiungere l'omeostasi fisiologica. Prima di tutto lasciatemi spiegare cosa significa l'omeostasi fisiologica. Fondamentalmente ci sono diversi fattori come temperatura, pressione sanguigna, pH, risposta immunitaria e livelli di ossigeno. Se queste cose aumentano o diminuiscono causano i recettori a inviare messaggi agli effettori per correggere il problema. Questo è l'omeostasi fisiologica. Una delle modalità per valutare il corretto funzionamento del nostro sangue è attraverso un'analisi delle cellule del sangue in campo oscuro. Qui possiamo osservare il sangue al microscopio per determinare il suo funzionamento. Il sangue sano è essenziale per una fisiologia sana. In nessun modo stiamo utilizzando questo per diagnosticare condizioni o patologie. Stiamo solo osservando per valutare il funzionamento del sangue. Il sangue non solo trasporta ossigeno e nutrienti ai tessuti, ma contiene anche i globuli bianchi che costituiscono la nostra prima linea di difesa contro gli invasori, le sostanze tossiche e le sostanze chimiche. Ora essenzialmente si muovono attraverso il sangue, identificando e rimuovendo patogeni e sostanze tossiche. In realtà la vostra vita dipende dallo svolgimento del loro lavoro in modo efficace, perché la vita risiede nel sangue. Quindi un sistema nervoso funzionante e un controllo della risposta del sangue conducono a una biochimica sana che a sua volta conduce a una fisiologia sana. Quindi vogliamo indagare sull'impatto del Neurovax sulla fisiologia dell'omeostasi. Quindi il modo migliore per farlo è guardare l'immagine in campo scuro. E ciò che abbiamo scoperto è incredibile. Dopo un'ora dall'assunzione di Neurovax, sono iniziati a manifestarsi profondi cambiamenti nel sangue. Quindi abbiamo prelevato il sangue nuovamente a 12 e 24 ore. Qui vediamo un'irregolarità nella cellula del sangue, chiamata rolls o aggregazioni. È quando il sangue diventa appiccicoso e si agglutina insieme come una pila di monete. Questo è un problema, in quanto in questo caso il flusso sanguigno non fornisce abbastanza ossigeno al cervello e al corpo. Quindi puoi vedere che entro 12 ore sarà già obsoleto e funzionerà in modo ottimale. Ecco un altro esempio in cui il sangue inizia a coagulare in modo errato e si regolarizza il primo giorno. Attualmente non conosco alcun metodo che possa riuscire a farlo senza l'uso di farmaci, sostanze chimiche o elettricità. I tuoi riflessi neurali e le risposte del sistema immunitario lavorano insieme per mantenere il tuo corpo in uno stato di omeostasi. In nessun modo sto suggerendo di interrompere l'uso dei vostri farmaci o trattamenti prescritti dal medico. Semplicemente portare il neurovax aiuterà a collegare il sistema nervoso centrale al sistema immunitario, favorendo l'omeostasi corporea e migliorando la chimica e la biologia. Questo vi permetterà a voi e i vostri amici di sperimentare una immunità più robusta. Ora come funziona? Abbiamo menzionato la mappatura del cervello prima, quindi come tutti i prodotti di Vox, trattiamo prima il sistema nervoso centrale del cervello e poi creiamo l'effetto nel corpo. Guardate cosa succede nel cervello quando mettiamo il patch di neurovax. Vediamo la corteccia basale che è iperstimolata e rimarcabile e dentro un'ora questa corteccia è normale. In questa prossima immagine vediamo coerenza nel cervello, questo è quanto bene il cervello condivide informazioni e stiamo relazionando questo a due zone di Brodman specificamente, il numero 24 e 25. Questi sono responsabili di quella connessione del cervello e dell'intestino che è anche una grande parte della nostra immunità. In questa prossima immagine vediamo la connessione tra il talamus, il subtalamus, il hippocampus e amigdala. Tutti hanno un ruolo cruciale nel trattamento della nostra chimica sanguigna e dell'immunità. Le linee minori significano un cervello più sano, quindi possiamo vedere che il neurovax aiuta a mettere prima il cervello a funzionare nuovamente e poi segue la fisiologica omeostasi. Cioè, portare il neurovax migliora le tue risposte neuronali e l'interazione con il sistema immunitario. Avere un'interazione neurale migliore significa una migliore chimica e una migliore biologia, perciò un sistema immunitario più forte e robusto. In conclusione, gli utilizzatori vedono un sistema migliore nel sangue e più funzionante. E' cruciale che prendiamo la salute e l'immunità di noi e le nostre famiglie.